Protagonista del numero di gennaio-febbraio di IAN Italia sarà il tema dell'efficienza energetica negli impianti con uno speciale ricco di case applicativi e articoli tecnici inerenti ad un ambito sempre più legato all'industria connessa. Rimanendo in tema efficienza energetica ci sarà un'intervista esclusiva a Massimo Bartolotta, Machinery OM Segment Manager di IAN Italia. Per quanto riguarda lo speciale di prodotto ci sarà una vetrina dedicata ai utensili e ai lubrificanti. Continuate a seguirci per scoprire quali saranno i focus di marzo.